No, io penso che sia un tipo di lavoro, cosa lo dico poi al di là delle telecamere o non telecamere, che nasce da una scommessa con se stessi ed è uno spirito che ti porta a dire io credo in una tipologia, in un mondo diverso, in una Puglia diversa, in un me diverso, allora il fatto di poter oggi parlare di un progetto che esiste ti fa evidentemente pensare a quando questo non esisteva e quindi devi pensare ai primi tempi, a quando magari poi non era così automatico far capire qual era il tuo mestiere, qual era il tuo lavoro, oggi faccio l'autore televisivo, sono scrittore, ho lavorato in pubblicità e tutto ha un senso, qualche anno fa queste stesse parole erano una scommessa, erano un modo di dire mi piacerebbe fare questo però ti spiego innanzitutto che tipo di lavoro mi piacerebbe fare, oggi è più semplice perché magari hai pubblicato un libro per la Rizzoli e ne hai un altro in uscita e hai tra virgolette un po' il pedigree che ti legittima, però in realtà io il pedigree ce l'avevo già prima quando tra virgolette i gradi non ti erano arrivati, la Puglia che poi è una splendida terra da cui partire, da cui, verso cui tornare, è un ideale trampolino che però poi ti dà la possibilità poi di crescere. Noi abbiamo avuto esperienze televisive sia a livello locale che a livello nazionale, dove abbiamo messo un po' a frutto quella che è la tipicità pugliese, cioè che è fatta della sprezza ma anche della dolcezza, per cui c'è sia il muretto a secco, queste cose qui, però c'è anche una contemporaneità, una modernità e quindi voglio dire, il fatto di poter sperimentare tanti linguaggi credo che poi sia stata un po' la carta vincente, fare tanti mestieri, uniti da un unico elemento che è la penna. Per quanto mi riguarda ho iniziato, poi penso sempre che sia poco tempo fa, però in realtà sono passati una decina d'anni, subito dopo l'università, quando magari hai in testa ancora di voler fare il ricercatore universitario, insomma che ci credi tanto, ti arrovelli intorno alle tue parole, intorno ai tuoi monologhi, intorno a mille progetti che nascono dai tuoi piccoli timori, tumori interni e diciamo che quindi ho collaborato con una serie di iniziative letterarie, di circoli letterari soprattutto che giravano intorno al web, dopodiché è evidentemente arrivato il tempo di giocare con le parole in termini assoluto, per cui la pubblicità, per cui quale maggiore modo per mettere a disposizione la propria creatività, la propria voglia di stupire con spot slogan, con marchi che ancora oggi vedo in giro, che so che sono state una mia idea ed è questa una cosa a cui non ci si abitua mai, quando vedi che c'è gente che lavora, quando vedi un set allestito, un programma che viene tirato su e ti ricordi che magari l'hai pensato in un momento in cui eri a casa tua a fare altro, per cui insomma, e credo che questo tipo di percorso poi si sia un po', abbia poi avuto un suo moto di autorigenerazione con una serie di conferme che ci sono arrivate, poi il mondo teatrale ha dato a me, a Tomi, la possibilità poi di sperimentare alcuni progetti importanti, alcune commedie, abbiamo avuto la possibilità di lavorare con artisti importanti come Gene Gnocchi per citarne uno solo e soprattutto poi di entrare nel magico mondo della televisione che sembra sempre una terra fredda, un territorio un po' gelido, però in realtà poi credo che sia un po' l'esperienza dove puoi mettere a disposizione quello che magari sono le tue idee e questo è stato per l'esperienza Telenorba, quindi per l'igraffio, ma anche per Striscia la notizia a cui dobbiamo tanto perché poi Striscia è stata la nostra università. Siamo una generazione che un po' si è inventata guardando al vicino, quindi cercando di capire e di rubare al proprio vicino, però in realtà non essendoci dei veri e propri maestri perché abbiamo, diciamo, età abbastanza ravvicinate in un certo senso, abbiamo fatto un po' di necessità virtù. Vero è che però ci sono delle eccellenze, in questo sono assolutamente convinto, che debbano essere valutate e debbano essere portate in auge, in alto, per cui la Puglia credo che debba avere ancora un po' più di riflettori puntati. Per quanto riguarda il mio percorso professionale, poi evidentemente quando cresci, quando metti famiglia, quando pensi ai figli che avrai, e io insomma dei figli ne avrò insomma a brevissimo, ti auguri una Puglia diversa, ti auguri una Puglia più bella, un territorio ideale per poter presentare quelle che sono tantissime idee. Nel mio futuro, brevissimo, al di là poi insomma di questa produzione importante che è mio figlio, c'è l'uscita del romanzo per la Rizzoli che si intitolerà molto probabilmente Lazzaro alzati e respira, che è il seguito ideale, diciamo così, della cambusa, storia d'amore e di altre malattie, anche se è un percorso diverso, più sofferto, più maturo, per cui evidentemente il romanzo è sempre un tipo di scrittura che poi ti alla fine ti chiede tanto questo tipo di scrittura, soprattutto rispetto a quella televisiva che ancora rientra in una tempistica, in una metabolizzazione molto rapida. Il romanzo invece ti affonda le mani nel costato e ti tira fuori l'anima ed è molto faticoso, per cui tirar fuori un romanzo inevitabilmente è un percorso creativo che dura due anni, tre anni, visto che siamo alla fine di questo percorso ne parliamo con tanta gioia. Io e Tommy abbiamo intrapreso anche il percorso che speriamo ci condurrà presto al film tratto dalla cambusa. Anche noi come un progetto come Puglia Eccellente, nel nostro piccolo, abbiamo voluto intitolare la cambusa, un concetto assoluto all'interno del quale noi abbiamo messo una serie di esperienze che ci sono capitate, una serie di valenze. Nel nostro piccolo abbiamo dato possibilità attraverso i corsi, attraverso iniziative legate ai ragazzi, le scuole, abbiamo dato la possibilità poi di mettere a disposizione una piccola cosa che noi abbiamo imparato e di fare un po' il gioco che comunque al fine credo che sia lo stesso spirito di Puglia Eccellente. Evidentemente credo che sia lo spirito migliore con cui ci si debba approcciare al futuro, cioè quello di fare gruppo. L'ultimissima evidentemente cosa credo che sia importante pensando alle altre realtà, il gruppo dei comici toscani, il gruppo autorale, il mitico genovese, i gruppi romani. Credo che sia arrivato il tempo di fare gruppo in Puglia, cioè di creare una cupola assolutamente positiva, assolutamente non criminale, però che possa unire con elementi fondanti, per cui credo che sia arrivato il tempo di fare gruppo nel vero senso della parola. Io e Tommy, che lavoriamo insieme da tanti anni, non lo ricordo anche più da quando abbiamo iniziato, siamo un esempio di questo, cioè siamo un esempio di come due pugliesi, un barese, un barlettano, mettono da parte la propria voglia di apparire, il proprio ego e creano gruppo, perché io sono già una parte di una realtà collaborativa e cooperante. Ecco perché alla fine moltissime delle cose che scrivo sono a quattro mani. Credo che questo sia lo spirito che oggi in un certo senso manca, che però credo che sia il buon futuro per la Puglia.